Virata la boa di un'andata spettacolare, sabato sera alla Vitri Frigo Arena, la Carpegna Prosciutto Basket inaugura il suo girone di ritorno contro Verona e lo fa mandando a canestro pure la solidarietà, quella che il main sponsor Biancorosso recapita a casa Tabanelli e alla gestione dei volontari della Caritas attraverso i proventi che verranno raccolti dalla vendita di gadget molto particolari. Tutto il gruppo squadra scenderà infatti sul parquet con una dozzina di sovramaglie create per l'occasione, maglie in cui si abbinano numero e soprannome di ogni cestista, pezzi unici che saranno messi in vendita online allo scopo di migliorare l'accoglienza delle persone in difficoltà che vengono ospitate da casa Tabanelli, struttura di fatto vicina di casa della Vitri Frigo Arena. I giocatori che si sono anche prestati in maniera molto collaborativa e simpatica e anche appassionandosi un po' all'iniziativa indosseranno queste sopramaglie durante il riscaldamento e durante le fasi della partita contro Verona e quindi saranno pezzi unici che poi verranno messi in vendita direttamente sulla sezione online del sito vittorialibertas.it a partire proprio da sabato stesso. Il prezzo di ogni sopramaglia è di 150 euro. C'è da ringraziare veramente molto la Carpegna Prosciutto perché ha ideato questa iniziativa, sta spingendo sul territorio, sta spingendo nel cercare di essere non solo presente sul campo e per la società ma per tutto quello che la regione marche e a maggior ragione la nostra provincia. Quindi benissimo, è un'iniziativa lodevole e molto simpatica tra l'altro che può essere un ricordo che tanti speriamo comprano la maglia in una stagione anche fortunata come stiamo avendo. A ricevere l'assist dalla Carpegna Prosciutto Basket, Caritas e Fondazione Lions, proprietaria di Casa Tabanelli che gli stessi Lions inaugurarono nel 2015. Ringraziamo la famiglia Beretta, ringraziamo la VL per veramente questo atto di attenzione a Caritas ma soprattutto attenzione alle persone più fragili. Grazie a questa iniziativa possiamo sia offrire un sostegno concreto alle persone in difficoltà ma soprattutto possiamo veramente riporre l'attenzione di tutta la comunità verso questo progetto che mira veramente a risollevare e offrire delle possibilità concrete a persone che in questo momento vivono in uno stato di difficoltà. Casa Tabanelli è una casa d'accoglienza per senza fissa dimora, ospita sia maschi che femmine e attualmente ci sono 15 ospiti. È una casa che ha come obiettivo quello di offrire a queste persone il tempo e le opportunità per costruire degli spazi di ripartenza e di autonomia. È una casa gestita da Caritas di proprietà della Fondazione Lions ed è sostenuta da tutta la comunità con l'opera di almeno 50 volontari che si alternano nei turni di volontariato sia notturni che durante tutta la giornata. I proventi serviranno a creare una zona ricreativa all'interno della struttura una zona che quindi aiuterà le persone a vivere quel luogo non solo come luogo per mangiare e dormire ma veramente un luogo di benessere benessere necessario per avere poi quella forza per poter ripartire. Oltre a questo acquisteremo anche delle biciclette che saranno utili per gli ospiti per spostarsi in città e quindi partecipare più attivamente alle attività del territorio. Grazie. 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 Grazie.